che avete da ridere venite vediamo che sapete fare gli allenoio dai forza vi insegnerò la nobile arte del combattimento dovete innanzitutto concentrarvi iniziamo attaccherete da ogni direzione non tutti quanti insieme, idioti riproviamo stavolta per maggiore sicurezza organizziamo le mosse attenzione prima io così in questo modo tu colpisci qui bene vedo colpisci tu e adesso tu così proviamo visto? visto che state imparando? adesso proviamo più veloce vuole così? ancora? no così fate male idioti qui? qui? qui?